da oggi sabato 13 aprile torna il doppio appuntamento con verissimo la padrona di casa silvia toffanin accoglierà ospiti attesissimi da oggi pomeriggio sabato 13 aprile torna il doppio appuntamento del fine settimana con verissimo la padrona di casa silvia toffanin accoglierà ospiti attesissimi dal pubblico di canale 5 non mancheranno i colpi di scena e le rivelazioni anche in questo weekend a partire dalle 16 30 verissimo tutti gli ospiti di sabato 13 aprile le anticipazioni questo pomeriggio sabato 13 aprile torna un nuovo appuntamento con verissimo la prima ospite che entrerà nello studio di silvia toffanin sarà francesca de andrè figlia di cristiano de andrè figlio del celebre cantautore fabrizio la donna non ha avuto un'infanzia facile in quanto i suoi genitori si sono separati quando era molto piccola e lei è stata mandata in orfanatrofio a milano dal quale ha cercato di scappare più volte in molti conoscono francesca de andrè per aver partecipato all'isola dei famosi e al grande fratello dal 2019 a una relazione turbolenta con giorgio tambellini che nel 2022 ha denunciato per violenza recentemente il suo ex è stato condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti nello studio di silvia toffanin entreranno anche massimo ghini e lucrezia lante della rovere protagonisti del film ennio doris c'è anche domani un'altra ospite in studio sarà la seconda classificata del grande fratello beatrice luzzi che sarà intervistata insieme ai figli valentino ed elia classe 1970 l'attrice è diventata nota al pubblico con la serie vivere dove ha interpretato dal 1999 al 2001 il ruolo di eva bonelli l'artista è stata legata dal 2007 al 2019 ad alessandro cisilen con il quale ha avuto i due figli rispettivamente nati nel 2008 e nel 2010 i telespettatori del pomeriggio di canale 5 potranno emozionarsi con una coppia uscita dal dating show di maria de filippi uomini e donne direttamente dal programma infatti saranno intervistati l'ex tronista brando e frichian e la sua scelta raffaella scuotto la neocoppia racconterà come stanno andando le prime settimane insieme nel mondo reale e come stanno vivendo i loro sentimenti i due sono usciti dal dating show lo scorso marzo dopo un trono molto combattuto in cui non si riusciva a comprendere se brando avrebbe scelto la hostess partenopea o la sua rivale beatrice dorsi infine sarà presente in studio l'ultima concorrente eliminata dal serale di amici di maria de filippi la ballerina lucia ferrari l'appuntamento è come sempre a partire dalle 16.30 su canale 5